un bel applauso allora fermiamo un attimo la musica oggi abbiamo avuto il piacere di collaborare insieme lo vedete tutti ragazzi un applauso ai Rosario Mazzotti un applauso forte ora a domenica in a domenica in abbiamo cantato insieme io spero che possiamo cantare insieme anche Piatta Nescaut i bonghi? canti e fai bonghi vieni un applauso enorme ragazzi dai ecco come primo impatto con il primo impatto suona i bonghi ah ok aspetta 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 un attimo facciamo un collubio io farei ieri Rosario Mazzotti con il signor Nudi che sta lì che si è acceso appena appena la sigla Francesco vieni Francesco vieni Francesco vieni Francesco vieni non so se qui dovete invertire le parti se tu fai il contio non dovete andare a te come vuoi tu come vuole lui E allora canta lui Aspetta, mi ha dato un altro suggerimento Non è per essere così molto ambizioso di questo palco Ma lo vorrei anche qui Nino Fransica Dov'è Nino Fransica? Dai, un applauso enorme Dai, veniva Nino Allora, scusa, cominciamo la... No, 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 eh? Facciamo la fissura Allora, go Vai, vai Allora, go Bella Oh, viola E a cabella viola Occhi C'era e sti E pupa pera Tu c'era e pupa pera Pugale pupa pera Pugale pupa pera Pugale pupa pera Tu c'era e pupa pera E macerraia Che ho visto sull'aia O tutta ognuna Ognuna è cruda C'era e macerra C'era e macerra Lai, giù sulla maierra E a mani, a mani, a mani E a pupa pera Pugale pupa pera C'era e pupa pera Pugale pupa pera E a pupa pera M'ora è riledare La futura C'era e macerra C'era e macerra Pugale pupa pera Pugale pupa pere Oh, gonna Pugale pupa pera E!!!! Meglio sample pupa pera Eros si tocca, eh, si tocca, dai, è una canzone. Ragazzi, Eros la da ciocchi, la puoi! Io oggi non ho capito una cosa, hanno fatto una specie di indagine di dozza, dicendo che Eros è, dopo Leonardo da Vinci, Michelangelo, per i primi, l'uomo più conosciuto in Italia. Ma Pippo Baudo, insomma, non lo conosce nessuno, forse sta al sesto posto. E' molto strano questa, è molto strano, è molto strano. Allora, 6 Eros, dai, vabbè, dai, sobbicati insieme, dai, facciamo qualcosa, alla grande, come sempre la Talentscout, dai. I soliti fotografi qui che passano un po', non c'è niente, va, basta, questo è un po'. Ok, un attimino, ragazzi. Francesco. Allora, ragazzi, praticiamo qualcosa insieme a Eros Ravazzotti, ok? Vai, vai, vai. Ci sei Eros, ecco. Che facciamo? Molto santo. Ero, ci accompagna lui. Cosa facciamo? Io so che Eros, intanto, è un chitarista bravissimo, poi è un ex rockettaro, per cui vai, coinvolgici, facci sognare. Quello che puoi, un giro rock plus, quello che puoi, vai, 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 un giro, un giro, un giro plus, vai, vai, plus attirato, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Sì, 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 sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.